Buongiorno ben trovati con la nostra rassegna stampa domenica 23 giugno prima di andare a vedere come titolano le principali pagine locali e nazionali le notizie dall'Abruzzo e dal Molise andiamo subito in Abruzzo dove c'è una situazione in fase di stallo per il Pescara Calcio e centinaia di tifosi hanno manifestato davanti allo stadio per chiedere un cambio societario intanto si attendono certezze sui nuovi soci e il nome dell'allenatore ci dice tutto Valentina Ciarlante Centinaia di tifosi del Pescara in protesta qui davanti alla curva nord dello stadio adriatico Cornacchia per manifestare tutto il loro dissenso rispetto alla gestione attuale della società in generale del club biancazzurro sappiamo che c'è una sostanziale fase di stallo quando mancano circa 20 giorni all'inizio del ritiro non c'è ancora l'allenatore del Pescara si fanno i nomi di Tesser su tutti ma anche quello di Caserta ci sono anche altre quotazioni meno forti per su altri nomi ma tiene banco anche la questione societaria perché il presidente Sebastiani ha dichiarato più volte di voler cedere una parte delle quote in contatto con Rosettano Navarro ovvero l'ex patron del Ponte d'Era imprenditore della ceciaria di Frosinone ma anche su questo versante al momento non ci sono conferme ci sarà un incontro nei prossimi giorni nel frattempo i tifosi dopo questa protesta si preparano a un'altra manifestazione quella che si terrà sabato prossimo in piazza Salotto con un corteo che partirà proprio dal cuore della città e arriverà davanti al comune Torniamo ora in Molise cambiamo decisamente argomento ci occupiamo di spazi per l'Italia che è il nuovo servizio offerto dall'ufficio postale a Larino all'interno del più ampio progetto Polis spazi innovativi e tecnologia a disposizione di privati e professionisti vediamo Inaugurata nella sede di poste italiane a Larino un'area di lavoro condivisa dedicata ad aziende organizzazioni e liberi professionisti spazi per l'Italia la denominazione del progetto che ha preso il via in via o palco e che dispone di un ufficio privato per due persone un open space con quattro postazioni oltre a un'area break I privati che decideranno di utilizzarlo potranno avere accesso a tutti i servizi tra cui la connessione internet wifi, l'accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal sindaco Pino Puchetti Ringrazio i posti italiani per questo progetto che è stato voluto fortemente in questa comunità, noi l'abbiamo apprezzato, è fondamentale per poter garantire un maggiore sviluppo del tessuto economico e produttivo della nostra città e del tutto il circondario Un servizio, quello di cui da ora dispone Larino, che pone il medesimo centro basso molisano nella diffusa rete di spazi per ufficio digitalizzate e accessibile del paese Un investimento importante sul territorio, così come spiegato da Roberta Sacchetti, referente della struttura immobiliare di poste italiane Spazi per l'Italia è una delle anime del più ampio progetto Polis, con il quale Poste Italiane ribadisce la sua presenza sui territori e la vicinanza alle comunità Nello specifico Spazi per l'Italia si pone l'obiettivo di dare un contributo sociale ed economico alle realtà locali e alle categorie di professionisti o piccoli imprenditori e giovani start-up e aiutarli nella attivazione senza oneri e investimenti iniziali della propria attività E continuiamo a restare in Molise, ma andiamo a vedere come titola la prima pagina di Primo Piano Molise In apertura di Primo Piano Molise c'è il ballottaggio, si vota oggi e domani a Campobasso per scegliere il sindaco Dice Primo Piano, seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15 e poi subito dopo Lo scrutinio Aldo De Beneditti, se Maria Luisa Forte si contendono la fascia al ballottaggio Sono state allestite 56 sezioni, 42.583 gli aventi diritto al voto alto il rischio di astensione E poi Coda al veleno ancora dice Primo Piano con i comizi di chiusura della campagna elettorale Il presidente Roberti che finisce nel mirino dell'Arcighei Ancora da Termoli, sempre le amministrative, c'è un errore nei resti Fratelli d'Italia scippa un seggio alla Lega Su istanza di Della Porta, la commissione ha preso atto della svista e rettificato il verbale Marone, attendiamo le carte, se non ci convincono andiamo al Tar E poi il punto a cura di Giuseppe Carozza sull'esame scolastico e la vera maturità E l'editoriale appunto a cura di Giuseppe Carozza Ancora da Campobasso la crisi idrica quella volta di Enrico Berlinguerra al quartiere CEP Ancora dentro la notizia con la notizia che arriva appunto da Poggio Sannita Un malore nel garage dove lavorava e shock per la scomparsa di Mariolino Palomba E poi ancora da Campobasso a Coltella il compagno della ex e il trentenne finisce in cella Da Rocca Vivara ucciso da due rapinatori alle porte di Roma, polizia e comune Ricordano Carlo Tuffilli e poi in taglio basso sulla prima pagina di Primo Piano Molise Il commento prelievo degli organi di Santo dalla sinergia rinasce la vita Un tassello importante nella riorganizzazione delle attività dell'ospedale Cardarelli Le notizie sotto la testata di Primo Piano Molise con lo Sporti, Lupi, Romero Spero che questi successi siano l'inizio di un grande percorso in Serie C Termoli, Dinizio è il nuovo allenatore della Juniores Esposito invece va all'Avezzano e poi il basket Il tecnico Diotalevi soddisfatto per la seconda sessione del Raduno Ed ora dalla prima pagina di Primo Piano Molise ci spostiamo in Abruzzo E andiamo a vedere come titola la prima pagina del centro Giunta, ecco gli esclusi eccellenti, dice in apertura il centro Che fa appunto il punto sull'esito delle amministrative Da Pescara via gli incontri per la nomina degli assessori L'epore ci tocca un posto, dice il centro E poi le fotonotizie che parlano del caldo record La guida utile per mantenere la casa fresca Caramanico c'è un'inchiesta della procura sulle terme Ed è stato aperto un fascicolo, dice ancora il centro Acqua scatta il razionamento di notte Ridotta la portata del 50% a Pescara Ancora disagi nei paesi il piano dell'Aga per l'estate E poi ancora la cronaca, sempre da Pescara Due pistole nel materasso, un trentenne è stata arrestata Tennis, Sinner, Musetti, il doppio oggi in campo per le tre finali Poi gli europei di calcio con Spalletti pronto a cambiare l'Italia contro la Croazia In taglio basso troviamo il giorno nero a Pescara Salta la corrente a ripetizione Tanti restano chiusi negli ascensori E gli elettrodomestici vanno in tilta E poi il calcio, la serie C, Cangiano e Curcio Finiscono nel mirino del Pescara Anche qui le notizie sotto la testata del centro Spiagge all'asta Ecco la norma regionale che salverà le imprese Dice il centro e poi i debiti della sanità presentati all'assessore I maxi tagli delle ASL E dalla prima pagina del centro ci spostiamo invece ora a vedere come titola La prima pagina del messaggero dedicata alla regione Abruzzo In apertura del messaggero c'è il delitto Albi Sparito il mandante dice Il quotidiano Pescara è reperibile Il boss calabrese Natale Orsino forse in fuga Ma si teme per la sua sorte E' sempre assente durante le udienze Accusato di aver commissionato l'uccisione dell'architetto L'inchiesta sulle liste d'attesa Sotto la lente l'attività dei professionisti ospedalieri Laverì siamo tranquilli Le ASL in recupero sui tempi Da Pescara ancora i tre big che rischiano il posto in giunta Carlo Masci ci saranno esclusioni eccellenti In bilico Masci, Antonelli e Del Trecco E poi l'operazione Andrangheta La Costa nel mirino della Cosca Maiolo Tre aggressioni e rapine C'è una faida tra egiziani e tunisini Una delle immagini che è stata catturata dagli investigatori Accade all'Aquila E appunto ci sono le foto della guerra tra gang giovanili In taglio basso del messaggero con il nuoto Supero i miei limiti L'articolo a firma di Tito di Persio Roseto Cioè una nuova impresa 55 anni Di Dino Melchiorre E poi ancora gli abruzzesi nel mondo Il terramano che in America Studia le leucemie L'articolo di Dom Serafini In taglio alto Con le notizie sotto la testata Set con la mendola C'è entusiasmo per la presenza Dell'attore in paese Che è atteso a scanno E poi da Pescara Sciopero della fame del trentenni Da un anno in carcere in Egitto Ancora la serie C Con il Pescara I tifosi sotto la curva nord Prosegue la contestazione Dalle notizie dedicate all'Abruzzo Ci spostiamo ora a vedere quelle nazionali Con le prime pagine nazionali E iniziamo subito a vedere come titola Il Corriere della Sera In apertura del Corriere della Sera Troviamo le parole del capo di Stato Sergio Mattarella Mai più braccianti Sfruttati Lavoro nero Interviene appunto Mattarella Lattina L'imprenditore Era indagato per caporalato Oggi intanto le urne aperte in 101 comuni Per i ballottaggi da Firenze a Bari a Perugia Ci sono le sfide decisive Per i partiti E poi la fotonotizia con lo sport con gli europei E con la sfida che ci sarà domani Tra l'Italia e la Croazia e gli azzurri Che sono a caccia dei gol Gli schemi quaderni La vigilia di Spalletti Dice il Corriere della Sera Dove troviamo anche i verbali della confessione PM Sulla furia di Turetta Avevo già colpito Giulia in passato Dice appunto Turetta che ha ucciso Giulia Cecchettin Dalle notizie che ritroviamo sulla prima del Corriere della Sera Ci spostiamo ora a vedere le notizie che troviamo sulla prima pagina Della Repubblica La sanità è lacerata Dice la Repubblica Caporalato ancora anche qui Le parole di Mattarella Sfruttamento crudele Le sanzioni siano rigorose Svimez e sindacato Dei medici Dice la Repubblica Sugli effetti della legge Allarme per mortalità infantile Tumori e migrazione al nord Del nord Dei vigili del fuoco in Veneto Alla regionalizzazione De Cataldo Rischiamo la desertificazione Del meridione In prima pagina della Repubblica Tutta l'inchiesta sull'autonomia differenziata E poi l'editoriale L'Asia Putin All'offensiva sulle orme di Khrushchev E l'intervento E l'editoriale di Maurizio Molinari Dalla prima pagina della Repubblica Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero In apertura del messaggero Troviamo le parole di Nordio Via L'abuso d'ufficio Abbiamo avuto l'ok Dell'Unione Europea L'intervista al Ministro della Giustizia Bruxelles ha reso il reato facoltativo I sindaci non più paralizzati dalla paura della firma Il paese potrà correre poi l'omaggio di Mattarella Singh Basta tollerare lo sfruttamento corteo a Latina L'azienda della tragedia che è stata già indagata da cinque anni Dice il messaggero Andiamo ora a vedere la prima pagina del tempo In apertura del tempo C'è l'inchiesta Con le coppe rosse Dice il tempo Ecco chi ha preso i soldi di mafia Capitale lo scandalo Del tesoretto sparito Condannato a tre anni e sette mesi L'uomo piazzato Dopo l'inchiesta intanto Buzzi Che attacca i compagni Io ho pagato per tutti Ma questi hanno svuotato Davvero le casse Dice in apertura La prima pagina del tempo Ci spostiamo dal tempo Ora andiamo a vedere La prima pagina del fatto quotidiano In apertura del fatto quotidiano La questione del caporalato Anche qui il governo Che interviene sul caporalato Niente fatti e soldi buttati Commenta il fatto quotidiano A Latina Cittadini assenti In piazza solo Mille sink Poi tra Calderone e Lollo Lei desertifica i tavoli E la consulta Lo espreca e spotte Consulenze Poi il sociologo Mizzolo Serve L'antimafia Gli indiani reclutati Da caffè Honoranze funebri C'è una falla Nella Bossi Fini Ancora Il costituzionalista Gaetano Azzeriti Che dice Invece Il premierato Va fermato Alla consulta Ma intanto Ha risvegliato Le opposizioni Troviamo sulla prima pagina Del fatto quotidiano Andiamo ora a vedere invece Come titola Il manifesto Sulla prima pagina Del manifesto C'è la fotonotizia Poi il titolo Bruciano i tempi E appunto le notizie Che arrivano Dal fronte del Medio Oriente Dove il leader israeliano Netanyahu Premi sull'acceleratore A Gaza Per poi pensare All'offensiva Nel sud del Libano Bombardamenti Come nei primi mesi Di guerra Dopo il massacro Della tendopoli Di Mavasi Nel campo di Sati E tu fa E strage Di civili Palestinesi Dice il manifesto Che poi parla anche Dell'emergenza Sicità In Sicilia Con gli allevatori Che sono in ginocchio Comune a secco Centri Dialisi Che sono In allarme Non c'è più acqua Nemmeno per piangere Commenta il manifesto Andiamo ora a vedere La prima pagina Della verità In apertura Della verità Piovono polpette Avvelenate Per tagliare fuori L'Italia E' il titolo Che troviamo Sulla prima Della verità Che ricorda Che ricorda come Oggi e domani Ci siano le urne Aperte Per i ballottaggi In tutta Italia E poi come sempre In occasione Dei momenti chiave Dell'Unione Europea Escono A mezzo stampa Allarmi finanziari Falsi Per presentare Un paese Alla deriva Ma stavolta Resistere Si può Parigi E Berlino Non possono più Ridere E poi Orban Che domani Sarà a Roma E prova A sgambettare Ursula Ed è alla foto Con La premier Meloni Dalla prima Pagina Della verità Alle notizie Di economia Che troviamo Sul sole 24 ore Società Scatola E Connivenze Della pubblica Amministrazione Titola Il sole 24 ore Ecco come Funziona La rete Del caporalato Le indagini A latina Dal contratto Fittizio All'alloggio I clandestini Sono gestiti Da network Criminali Intanto Mattarella Dice L'Italia È un paese Civile Bassa Lo sfruttamento Illegale È crudele E poi La Fotonotizia Che arriva Dal Medio Oriente Raid israeliano A Gaza City Ci sono 42 morti Blinken Evitare L'escalation Palestinese Usato Come scudo Umano In questa foto Che ritroviamo Sulla prima pagina Del sole 24 ore Dalle notizie Di economia Quelle dedicate Allo sport Sulla prima pagina Della gazzetta Sportiva Ci prova Fagioli Dice La gazzetta Sportiva E il Ciac La nuova Regia Appunto Di Nicolo Fagioli Dopo la squalifica Di sette mesi Ha giocato Nella Juve Solo 98 minuti Ora Prenderà Il posto Di Giorginio E guiderà L'Italia Intanto Il ct Pensa Regista Tornato a maggio Dopo sette mesi Appunto Di squalifica E poi Il tennis Erbazzurra Dice Ancora La gazzetta Dello sport Sì Nere Musetti Doppia Finale Con vista Wimbledon E con Le notizie Sportive La nostra Rassegna Stampa Termina Qui Prima di Lasciarci Però Vediamo La programmazione Di oggi Sul nostro Canale Di Teleregione Canale 17 Viva la musica Congigione Che torna Alle 11 E poi Agrissapori Un'ora dopo Alle 12 E 30 Sorgente Studio TV Alle 14 Come sempre Vi ricordo L'appuntamento Con la nostra Informazione Con il nostro Telegiornale E con il Direttore Pierluigi Boragine Poi Alle 16 E 15 Focus Su Isernia Dalle origini E giorni nostri Alle 19 E 30 Ancora La nostra Informazione Serale Che poi Ritornerà Puntuale Alle 23 Per l'ultima Edizione Alle 20 E 50 Il convegno L'Aquila Nuova Legge Urbanistica Regionale E con questo È davvero Tutto Io vi ricordo Appunto L'appuntamento Delle 14 Con la nostra Informazione E vi auguro Una buona giornata E una buona domenica Delle 15 Delle 15 Grazie a tutti.